Samuel Di Carmine ai nostri microfoni, prestazione maiuscola, migliore in campo oggi, un gol e un assist diciamo. Ti avevamo visto bene anche nelle precedenti partite ma oggi sei andato anche in gol, sei andato verso la porta, hai fatto un gran lavoro ma anche e soprattutto le occasioni da gol. Sicuramente per me era importante segnare perché ero da un momento in cui giocavo poco, però sono contento perché la squadra mi è sempre stata vicina e oggi ho sentito il calore di tutti sul mio gol e quindi li ringrazio davvero tanto. Perugia che in primo tempo ha ben interpretato la partita però non riuscivamo ad arrivare in fondo, le nostre azioni si fermavano spesso quasi al limite dell'area. Poi in secondo tempo di grande personalità. Questo è vero, il mister infatti a primo tempo ce l'ha detto che arrivavamo bene vicino all'area di rigore e poi sbagliavamo l'ultimo passaggio, la conclusione. È stato un peccato perché abbiamo preso un euro-goal da parte dell'Avellino, però siamo stati bravissimi in secondo tempo a chiudere l'area di rigore e a fare due gol. Adesso il campionato del Perugia cosa può diventare? Noi intanto pensiamo a partita dopo partita, cercare di fare più punti possibili. Siamo una squadra forte quindi ci dobbiamo divertire. Grazie.